Bella a tutti ragazzi e ragazze, io sono Barney del Team Plus Ultra Cargaming Voi magari mi conoscete meglio come God Barney, però sono entrato in questo team da poco diciamo E siamo appunto un team di livello agonistico di Yu-Gi-Oh! Sponsorizzato anche da Yu-Gi-Oh! Cardmarket.eu E sono qua per fare il video presentazione del canale Scusate se la qualità è magari un po' bassa o... Però sto registrando quei pad e sono le indici di Sara Comunque su questo canale potrete trovare deck profile, report, analisi di carte e mazzi Qualche video carino e magari anche qualche sorteggio Cioè magari cose che mettiamo in palio Tipo recentemente sono stati messi in palio, mi sembrano tre buoni cardmarket a 5 euro E ragazzi, siamo 12 membri Il team si chiama Plus Ultra Non so se l'avevo già detto E ringrazio Yu-Gi-Oh! Cardmarket anche, lo saluto Cioè, sembra una cosa strana, però lo devo dire nel video Quindi ringrazio appunto Yu-Gi-Oh! Cardmarket per tutto quello che ci ha dato Tra magliette, roba e segnapunti Insomma ragazzi, spero che questo video, no, questo canale vada in porto Cioè che sia un canale che si instauri bene in questa community Anche perché ci divertiamo molto a fare video, a fare tutto ragazzi Cioè siamo un gruppo ben compatto E in più c'è Elio il nostro, diciamo, non so se sia il team leader Però è quello che di più si dà da fare appunto Io diciamo sto facendo un po' da grafico e da editor di video Perché ho già un canale YouTube e quindi so come muovermi diciamo Ehm, nulla ragazzi, diciamo che questo è il sunto di tutto Spero che il video vi sia piaciuto Ehm, ringrazio ancora Yu-Gi-Oh! Cardmarket Ringrazio, saluto tutti gli altri membri del team Che sicuramente staranno guardando questo video E ragazzi, ci vediamo in un prossimo video Non so chi lo porterà, è questo il bello di questo canale E ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi!